Morizio Poli, eccomi a voi. Oggi voglio parlarvi di mini bond, le obbligazioni studiate per le piccole e medie imprese, le PMI, le cosiddette PMI. Cosa sono questi mini bond? Sono obbligazioni, quindi mini perché vengono emesse da le piccole e medie imprese, che possono emetterli sono quelle che hanno un fatturato all'incirca di 2 milioni di euro all'anno, il loro bilancio è certificato da un revisore, sono SPA ma anche SRL, quindi c'è una bella fetta di aziende che possono accedere al credito alternativo alla banca per ritrovare un riequilibrio finanziario nella propria impresa. Chi può emetterli, l'abbiamo detto, chi può sottoscriverli sono investitori qualificati, istituzionali, quindi banche, SGR, che possono sottoscrivere questi bond emessi dalle piccole e medie imprese. La durata può essere varia, 5-7 anni, a seconda di un progetto di sviluppo, alla base ci deve essere un progetto di sviluppo, il mini bond permette all'azienda di poterlo rimborsare annualmente quota capitale e quota interessi, oppure cosiddetto bullet, tutto alla fine, quota capitale, gli interessi annualmente o semestralmente, a seconda di come è impostato il piano di sviluppo dell'azienda. Quindi un'ottima possibilità per le piccole e medie imprese di poter accedere al credito, di poter riequilibrare il proprio piano finanziario e di non accedere direttamente al mondo bancario. Quindi le mini bond sono un'ottima soluzione, quindi moresolutions.it, numero di telefono 0372-2405, una mail, infochiocciola, more-solutions.it. Siamo a disposizione per parlarvi di mini bond e di progetti di sviluppo per la vostra impresa. Grazie! Grazie!